Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vorrei mostrarvi gli acquisti che ho fatto all'MD Ovviamente, come avrete detto dal titolo E' un discount Vabbè, ho già tutte le cose qua sulle gambe da tirare fuori Facciamo che magari le appoggio, no, vabbè, le tengo così Piccola menzione prima di iniziare riguardo al make-up Sono truccata così da stamattina e sono le 4 del pomeriggio Mi sono messa qualcosa di più comodo per stare in casa Ovviamente stamattina sono andata al lavoro Quindi lo vestite tutto di nero In realtà sotto ho il pigiama, fa niente Nascondiamolo, facciamo finta che non ve l'ho detto Furba io, perché ovviamente mi metto questo per non farvi vedere il pigiama Ma poi ve lo dico, veramente interessante Vabbè Comunque Trucco realizzato con due dei colori della collezione in monochrome Che mi piacciono tantissimo E sono quello diciamo Rudy Che è quello legato al rossetto Ruby Woo E quello di Diva Che non mi ricordo come si chiama Ovviamente qua io ho il problema dell'occhio che mi lacrima Quindi la macchiolina che vedete qui Purtroppo È un problema mio Che quando mi trucco il mattino Ho gli occhi stanchi Quindi tendono a lacrimarmi E il trucco mi si scioglie Vabbè Il rossetto era una tinta Adesso li ho messo sopra un attimo Siccome ho mangiato L'ho un po' impiastricciato E' andato da tutte le parti E allora adesso ci ho rimesso un attimino sopra Un burro cacao Giusto per avere un effetto un po' più presentabile Per il video E vabbè insomma Niente di che Però volevo giustificarvi queste due o tre cose Che magari mi dicono Questa sta in tuta Però tutta bella truccata Che cavolo questa fa E il trucco è niente E' quello di stamani Quindi è quello che è E ho giusto insomma ritoccato un minimo Le labbra Perché appunto avevo mangiato Quindi gli ho passato poi sopra il burro cacao Giusto per uniformare un minimo E niente Iniziamo subito Allora dicevo Sono stata da MD Ero con mia mamma E metto La mia compagna a fare la spesa Ho detto Ah si da t'accompagno Che prendo due o tre cose anch'io Quindi ho fatto la spesa Del cibo Diciamo così Poi quando ero lì Mi è venuto il flash Ho detto Ah ma è vero che qua ci sono Alcuni prodotti interessanti Non andando io spesso In questo tipo di supermercato Di scout Chiamatelo come volete Ho voluto approfittarne E già che ero lì E' vero che non è lontanissimo da casa E comunque ci posso passare Però già che ero lì Ho detto Ma si Dai prendiamo Anche se non mi serviva nulla E Non avrei dovuto prendere niente Perché sono in fase stop acquisti Me lo sono imposta Ma Però Ho tante troppe robe Da smaltire Soprattutto prodotti viso Che ovviamente Sono quelli che Non che uso meno Assolutamente Perché non sgarro Comunque la sera Soprattutto la sera Con la skin care Non sgarro mai E quindi Li utilizzo Molto Però Comunque una crema Da 50 ml Viso Un 6 mesi Magari Gli dura Quindi calcolando Che ne ho aperte 8 Tutti insieme Per motivi validi Però comunque Ne ho già Diverse in uso E vari prodotti Comunque viso Anche in scadenza Non avrei dovuto Comprare nulla Però ecco ripeto Ero lì Non era previsto Ho visto delle cose Mi sono ricordata Del marchio botanica Di cui avevo sentito Parlare in diversi video E quindi Quelle due o tre cose Che mi hanno ispirato Le ho volute prendere Considerando che comunque I prezzi sono molto bassi Quindi Ma sì Dai Io li prendo Poi vedremo Non li utilizzerò Sicuramente subito Quindi non vi aspettate Il review subito Perché essendo Tra gli ultimi prodotti Ovviamente che ho preso Ci sono tutti gli altri Prima Quindi mettetevi il cuore In pace Che li vedrete Tra un po' A meno che Finisco qualcosa Proprio Che dico Vabbè dai Utilizziamo E apriamo questo Vedremo Allora Dicevo Mi sono concentrata Solo su botanica Perché l'avevo sentita E io in realtà In passato Senza saperlo Quindi senza farci troppo caso Però proprio perché Facevamo spesa LV Mi capitava Di prendere qualcosa Di quel marchio Tipo il sapone intimo Alcune cose Che mi piacevano E che quindi poi Quando andavo Prendevo sempre quelle Ma non ci avevo proprio Fatto caso Di che cos'erano In realtà E A sto giro Mi è venuto in mente So che ci sono anche altri C'è un altro marchio Che ha un buon inci Non tutti i prodotti Però alcuni dei prodotti Hanno buon inci Però non mi ricordavo Quale fosse Non mi Come si dice Non mi ricordavo Soprattutto i prodotti Quindi sapendo che comunque Non tutti sono proprio Buonissimi Non ho voluto Azzardare a prendere Troppa roba Senza essere sicura Già ho rischiato Con questi Già ci sono delle cose Che non so proprio Come sono Però ho detto Proviamo E quindi Non ho voluto Esagerare Mi sono concentrata Per questa volta Su botanica Mi informerò Un pochettino meglio Su quelli che sono Anche gli altri Marchi E se c'è qualcosa Che si salva Insomma In quel marasma Di prodotti Da discount Diciamo così Che però So che ci piacciono Tanto Allora Vediamo un po' Che cosa mi sono portata a casa Vabbè In realtà La prima cosa Che dovevo prendere Erano gli assorbenti Infatti Vabbè Assorbenti Sono ancora nel sacchetto Ho voluto prendere Il sapone Appunto Questo qui Con aloe vera Questo è un sapone liquido Che in realtà Si può utilizzare Come sapone mani Come sapone Viso Volendo Un sapone Generico Questo è appunto Del marchio botanica Naturalmente Quindi questo qui Che vedete scritto Qua sopra Non so se si vedrà Perché è trasparente Quindi vi giro anche Ecco qua La confezione Così potete vedere meglio Si mette a fuoco Ah se sentite Delle urla Imbarazzanti Di fuori C'è Nicola Con un suo amico Che stanno giocando A calcio tennis Perché oggi Era una giornata bellina Quindi hanno detto Dai stiamo un po' fuori E in realtà Il sole è già andato via Però hanno deciso Di stare un pochettino fuori A godersi la giornata A giocare a pallone Io ho detto No no grazie Fa niente Ho da fare Fate voi E quindi ne approfitto Mentre loro sono fuori A farsi la loro partita Per girare il video Quindi niente La botanica Naturalmente Che non è Certificato Bio Quindi non vi aspettate Un prodotto certificato Però Sono prodotti Comunque ben formulati Ben formulati Dice fuori Una testata Microbiologicamente Vabbè 0% Non è Generale Comunque non è Non è Troppo schifezze All'interno Diciamo Diciamo così E questo Questo In realtà Però era fatto molto simile Non so se è lo stesso E hanno cambiato La confezione Il packaging Ed era effettivamente Un sapone Normale O se fosse effettivamente Qualcosa di intimo Adesso mi sfugge Non mi ricordo Comunque utilizzato Anche per lavare i pennelli E li lava molto bene Mi piace molto Ha un Pau di 12 mesi E il prezzo Non lo ricordo Ecco Dove avrei dovuto Prendere lo scontrino Invece Non so Dove ce l'ho Lo scontrino Vabbè Comunque i prezzi Vanno tutti Da il 1 Ai massimo 4 euro Per questi prodotti Che vi mostro Questo sarà stato Intorno a 1 euro Qualcosa Ecco Massimo 2 euro Proprio Abbondanto Ma secondo me Quello a 99 centesimi Ecco Calcolate che i prezzi Sono comunque bassi Quindi ci può stare Poi Della stessa Linea Diciamo così Ho voluto prendere Anche il Questa è una novità Tra l'altro Il bagno schiuma Calcolate che Di questo qui C'è anche La versione Questa Con L'olio di Argan Quindi le trovate In queste due Profumazioni Chiamiamo così Quindi all'aloe E all'argan Ho voluto provarli Entrambi Quindi ho preso Di questo All'aloe E per il Detergente Bagno schiuma Ho voluto Provare a prendere Questo qua All'argan Che comunque È bello Deteratante Quindi sul corpo Ci sta Quindi dici appunto Con olio puro Di argan Bagno schiuma Sempre formula testata Zero Slash Parabeni Coloranti Sliconi Eccetera Eccetera Questo ha sempre Un pao Di 12 mesi 500 ml Questo veniva La stupidata Anche questo Però Non è Comunque male Diciamo Non è schifosissimo Come in inci Anzi Comunque il fatto Che ti dica Che è una formula testata E che ti metta davanti Certi tipi di scritte Non ha certificazione Ripeto E infatti Sull'etichetta Non c'è nulla Che lo fa Intendere Ecco Ti dice solo Puro Olio puro Di argan Però non trovate Scritto da nessuna parte Bio Quindi non potete Confondervi Qua Sì Dice Biologica Però Vabbè Ha una Confezione così Che mi sembra Molto comoda Non voglio Aprirlo Per non far partire Il pao Però una confezione Così Di quelle comunque Comode Quindi non da svitare Ma che si apre E potete versare Ed esce il prodotto 500 ml È un bel formato Colori bellissimi Mi ispira proprio E quindi insomma Ho voluto provare Ad acquistarlo Per vedere Com'è Insomma È anche un qualcosa Che siccome Nicola Si lamenta Sempre che io Compro tutte cose Da donna Con profumazioni Magari floreali Femminili Che quindi lui si lamenta Che diceva Mi posso fare la doccia Con qualcosa Che sa di uomo E allora Si prende lui da parte Le sue robe E si usa quelle E via Credo che magari Fare una cosa del genere Possa essere un po' Anche universale Mettiamola così Cioè non prettamente Femminile Perché dovrebbe sapere Comunque sia di delicato Ma di olio di argante Quindi non una cosa Eccessivamente dolce Spero Poi Ho preso Questo ecco Forse è il prodotto Che mi convince meno Tra tutti Però ho voluto Comunque provarlo È questo olio corpo Mi ricorda molto Quello Che poi non avevo acquistato Perché anche ieri Ero in dubbio Sull'ince E quant'altro Mi ricorda Come si dice Quello che potete trovare Da Eurospin Il formato è praticamente Identico Fatto così Stesso colore Ovviamente quello È del Di marchio Mi sembra che era Di un fiore di magnolia Insomma Il marchio che potete trovare Da Eurospin Però Non aveva Non era un prodotto biologico Quindi non era un fiore di magnolia Della linea biologica Ma era Un prodotto così Esattamente come questo In realtà Però Oh ero in vena E l'ho acquistato Allora Olio corpo Emolliente E nutriente Con olio di mandorle dolci E olio di argan Ideali anche per pelli delicate Dermatologicamente testato E qua in alto C'è questa piccola scritta Che non è ovviamente Un certificato Però insomma C'è scritto Attivi di origine biologica E lo trovate scritto Qua Non so se potete vederlo Qui Quindi Non è ovviamente Una certificazione Biologica Importante Anzi Non è proprio una certificazione Una semplice scritta loro Però Mi fa pensare Che qualcosa di buono All'interno Ci possa essere Poi Ultimi due prodotti Anzi tre Poi c'è il pezzo forte Allora Ho visto questo Che mi ha incuriosito tantissimo Questo è uno scrub Viso corpo È un sfogliante delicato Con olio Con bioestratto Di salice E zenzero Dice Nuova formulazione Sfoglianti di origine naturale Io non so se questo prodotto Ci fosse già Precedentemente Hanno cambiato la formulazione Perché qua È indicata Questa cosa Anche qui Attivi di origine biologica Segnalato Qua in alto Vediamo cosa Ah beh Questo sono 175 ml E un pau di 12 mesi Pagato Se non sbaglio Due euro e qualcosa Tre euro al massimo Allora Scrub viso corpo Le particolari Microparticelle Di questa formulazione Rimuovono delicatamente Le cellule morte Superceficiali Presenti sulla pelle Del viso del corpo Consentendo Un'esfoliazione delicata In grado di facilitare Il turnover cellulare La pelle appare Immediatamente Più sana E vitale Luminosa E pulita L'effetto meccanico Dello scrub viso corpo Viene potenziato Dalle proprietà Liviganti Dell'estratto di salice E dalle proprietà Revitalizzanti E rinvigorenti Dello zenzero L'estratto di salice Favorisce L'esfoliazione Degli strati Superficiali Della cute E svolge Un'azione lenitiva Mentre l'estratto Di zenzero Revitalizza E rinvigorisce Il tessuto cutaneo Vediamo un attimino Linci Non mi sembra Di vedere Cose strane No Non mi sembra Di vedere Neanche Silicone E robe brutte Insomma Vabbè Ve lo Metto qui Così Gli date Un'occhiata Anche voi Solito Stop Fermo Immagine E leggete Ecco qua E il prodotto È questo qui È uno di quelli Che ho visto E mi ha incuriosito Subito E che quindi Ho subito Preso E infilato Nel carrello Ultimo Ovviamente Non vi so dire nulla Non è sicuramente Uno dei prossimi Che aprirò Perché ho altro Il mio pensiero La mia idea Era quello Di tenerlo In doccia Come adesso In doccia Quello Corpo E Uno piccolino Di balea Viso Che uso ovviamente Separatamente In base Insomma Alla zona Appunto Questo qua Essendo sia viso Che corpo Potrebbe risultare Un prodotto unico Da tenere Appunto Come scrub Nella doccia Poi Ho visto Questo veramente Spero in bene Veramente Sempre Siamo ancora Su botanica Un litro Di maschera Per capelli A 2,60 euro Quindi prezzo Bassissimo Non potevo Lasciarla lì Mi ha incuriosito Tantissimo Perché il formato Veramente È enorme E il prezzo Era bassissimo Perché appunto Stava sui 2 euro 2,60 Io ricordo 2,69 Forse era Comunque Meno di 3 euro Per tutta questa quantità E sono appunto Mille Cioè Veramente Un po' 12 mesi Mi ha veramente Stupito Perché di solito Comunque Bene o male Un 300 ml 400 al massimo Di scrub Bene o male Un 3 euro Li costa Quindi Ho detto 3 euro Per tutta questa roba Che è come se ne avessi Messe insieme 4 Treto Però Insomma È veramente Enorme Questa è All'olio D'oliva 100% Biologico Specifica per capelli Fragili E trattati Il mio capello È fragile E trattato Con glicerina Vegetale E sempre Dermatologicamente Testato Questo qui Vediamo Che dice Allora La maschera per capelli Botanica All'olio D'oliva Aiuta a rigenerare I capelli Disidratati E danneggiate Dagli effetti Dannosi Dell'ambiente Vento Solo Smog Dai trattamenti Concoloranti Dall'azione Del phon L'uso costante Del prodotto Idrata Intensamente I capelli Restituendo L'or luminosità E morbidezza Naturali Speriamo Speriamo Io spero Che sia anche Districante Perché è sinceramente La cosa che Più apprezzo In una maschera Per capelli Cioè quello che io cerco Al fine è quello Quindi speriamo In bene Vi dirò Mi si scarica La batteria Ora Porca troia Vabbè Speriamo Poi Ultimo Prodotto Questo è La chicca Della chicca Proprio La chicca Della chicca Vabbè Prendiamo Questo scatolone Guardate qui Cosa ho comprato Dan 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 E eccoci qui Scusate il cambio Di luce Ma purtroppo Avevo la Videocamera piena Come al solito Quindi tutta la Teritera Per insomma Togliere i video Che avevo girato Metterli sul pc Svotarle E quant'altro Nel frattempo Si è fatto un po' Più buio Però vabbè Fa niente Allora Vi stavo facendo Vedere L'ultimo acquisto Fatto a MD Non è un prodotto Cosmetico Ma è sempre Insomma Ad uso cosmetico Sicuramente Per la nostra bellezza Ed è appunto Il pezzo forte Di tutto L'all Ed è Questo aggeggio Qui Eccolo qua Questo praticamente È come Insomma Vedete Dalla confezione Un preparatore Di maschere Per il viso Fatte in casa Con ingredienti Naturali E Quando ho visto Questo aggeggio Così mi ha subito Insomma Colpito Mi ha colpito Soprattutto il prezzo Anche perché costava Solo 12 euro Qualcosa 12 euro E 50 12 euro E 60 Una cosa del genere Quindi comunque Un prezzo Più alto Di quello che spendo Per i prodotti Ma Considerando che è Un apparecchio Che mi permette Poi di andare A risparmiare Sull'acquisto Di un'altra tipologia Di prodotto Che quella Delle maschere Nonostante io In realtà Ne abbia Un'infinità Non è che mi mancano Però L'ho visto E mi ha Subito colpito Quindi Insomma Non sapevo Cosa fare Cosa non fare Ci ho ragionato Un attimo E poi alla fine Ho detto Ma sì Dai Prendiamolo Anche se Ripeto Ho tantissime Maschere Cosa che stavo dicendo Vabbè Comunque Tantissime maschere Da smaltire Ho ancora Tutte quelle Della Thailandia Che erano Una marea Ho un sacco Di maschere Non solo In tessuto Ma anche In tubetto In crema Da utilizzare Quindi Ne ho davvero Per una vita e mezza Però vi dico La verità È una cosa Che mi piace fare Soprattutto In realtà D'estate Nel senso Che quelle In tessuto Soprattutto Che sono belle Fresche Sono una goduria D'estate È una piccola Coccola Che mi piace Concedermi Comunque Settimanalmente Non dico Tutti i giorni Perché tutti i giorni Non ce la farei Ma sicuramente Almeno due volte A settimana Riesco A concedermela Che sia Quella in tessuto Che sia quella in crema Che sia quella peel off Almeno una Una due Tre Anche a maschere In settimana Me le faccio Diciamo Che quelle in tessuto Adesso Un pochettino meno Perché appunto Mi fanno freddo E sicuramente Sono meno comode Rispetto a Quelle che si applicano Sul viso In crema Diciamo Che asciughino O meno Che però Insomma Non hanno un foglio In tessuto Per capirci Nel senso che Comunque Io posso fare Tranquillamente Quello che devo fare In casa Quindi non è sempre Un tempo rilassante Ma è magari Sto facendo i mestieri Lavando i piatti Quello che è E ho la maschera Sul viso E quindi tra una cosa E l'altra Riesco a farla Il tempo sicuramente Di mettersi sul divano Rilassarsi con la maschera In tessuto Appoggiata Un po' meno Però cerco di trovarlo Ieri sera Giusto appunto Mi sono concessa Questa maschera In tessuto Ero proprio stanca Quindi ho fatto Dalle 9 alle 18 Quando sono tornata A casa del lavoro Mi sono messa il pigiama Mi sono struccata E mi sono messa sul divano A godermi Quel momento di relax Quindi non è una cosa Faccio sempre Però se riesco Più che volentieri Comunque tornando A questo fantastico Aggeggio Diceva appunto 100% naturale Preparatore Maschere facciali Preparati in modo In pochi minuti E al contrario E puoi leggere Preparare in pochi minuti Maschere naturali A base di frutta E verdura Quindi mi sono subito Immaginata Che potessi Insomma Farmi a casa Con le mie robe Le mie maschere Cosa che ho sempre detto Di voler fare Però Non mi ci sono mai Applicata In realtà Però Anche perché Magari Voglio farla per Questa cosa Mi manca sempre Un ingrediente Quindi dovrei Dovrei farmi Una piccola lista Delle ricettine Che mi piacciono Cercare poi Di prendermi Quegli ingredienti Però Quello insomma È un altro discorso Forse ora Con questo Prodotto Riuscirò Riuscirò a fare Qualcosa Diciamo che Sicuramente Economicamente Parlando Conviene E ora Vi spiego Il motivo A lato C'è scritto Appunto Preparatore Domestico Di trattamenti Facciali Completamente Naturali Permette Di sminuzzare Trasformare In polpa E succo In polpa E succo Frutta E verdura Omogenizza Ricavato Grazie alla particolare Trattamento Agli ioni negativi Deposita Distribuisce Il preparato Sulla maschera Dona In pochissimi minuti Nuovo vigore Alla pelle Grazie alle particolari Proprietà Degli ingredienti Naturali Quali frutta E verdura Completamente Naturale Ed ecologico Certo Perché dipende Quello che andate A utilizzare Voi come prodotto Da quello che Ho intuito Leggendo qui È un qualcosa Che mi va A In base agli ingredienti Che io metto In questa sorta Di frullatore A preparare Questo composto Che non so Se diventa gel Se diventa gelatina Se diventa un composto cremoso Non ho ben capito Me lo va Praticamente a stendere Su la maschera In tessuto In modo da trasformarlo Appunto In una maschera Da mettere subito Prima di decidere Di acquistarlo Ovviamente Ho aperto la scatola Per vedere Un pochettino Cosa c'era All'interno Ho visto subito Il librettino Di istruzione Che sicuramente Io Allora Non l'ho ancora Tirato fuori Cioè questo È quello che ho visto Io All'inizio Ma non l'ho Non ho completamente Tirato fuori Le cose La scatola Non ancora Lo facciamo adesso Lo facciamo adesso C'è questo Il Marco Sui La linea C'è questo prodotto Si chiama Fresh Preparatore Per maschere Facciali C'è tutta una serie Di accorgimenti vari Che spiegano Come funziona Il prodotto Come pulirlo Come prepararlo Come montare I pezzi Eccetera Eccetera Praticamente fatto così Una sorta di Base Dove poi noi Andiamo a mettere La maschera Un frullatore Dove noi mettiamo Il composto E lo frulliamo E poi c'è una parte Che lo fa scendere Lo fa depositare Sulla maschera In tessuto Che noi abbiamo messo sotto E dovrebbe funzionare In questo modo E sopra appunto Un piccolo frullatore Che frulla il tutto Cioè sfogliando Velocemente Questo Ho intuito ciò Ma la cosa Carina E che comunque Poi mi ha convinto L'acquisto Che all'interno Ci sono Dove sta Scritto Perché L'avevo scritto Dove è che L'avevo visto Scritto Che c'erano Dentro Vediamo Forse qua Nella prima pagina Esatto All'interno C'è Oltre al Macchinario Fogli monouso Per la maschera 50 pezzi Che sono questi Quindi voi Avete già Tutti i vostri Fogli Che sono appunto 50 All'interno Poi abbiamo Oltre a queste 50 maschere Preparato in polvere Per la maschera 30 bustine Da 25 grammi E poi vabbè C'è lo spazzolino Per la pulizia Frullatore Misurino E quant'altro Quindi qua sotto Poi abbiamo Questa busta Più grande Ecco qui Dove c'è appunto Mask Powder Che in realtà Mi piacerebbe Sapere Cosa sia Cioè Più che altro Vorrei capire Se è un ingrediente Che io poi posso Facilmente sostituire Con Con altro Quando avrò finito queste Perché Una cosa che poi Ho guardato Sul libricino Delle istruzioni Ci sono anche Le ricettine Infatti non vi ho fatto vedere Oltre appunto Le istruzioni In fondo Ci sono Le ricette E Ci sono Ricette per Maschera per pulizia profonda Del viso Poi c'è Maschere idratanti Maschere anti acne E Disintossicanti Maschere antimacchie Schiarenti Maschere sgrassanti Maschere antirughe Antietà Insomma Un sacco di Ricettine Interessanti Ti spiega gli ingredienti Da mettere L'effetto che ha Per quale tipo di pelle E diversi consigli L'unica cosa Che notavo Come si dice Che Oltre insomma Gli ingredienti Che possiamo trovare Appunto in casa Come può essere La mela Il latte Per esempio Questa qua Maschera idratante 10 grammi di mela 10 ml di latte 80 ml d'acqua Una bustina di polvere Per la maschera E ti fai Questa ricetta Però insieme Appunto agli ingredienti Mela Latte E acqua Dice una bustina Di polvere Per la maschera E questo lo dice In tutte le ricette Quindi vorrei capire Se è un ingrediente È fondamentale Per la buona riuscita Del prodotto Quindi che è quella sostanza Che magari poi Mi diventa La consistenza gelatinosa Che si va a stendere Sulla maschera Non lo so Sto dicendo a caso E quindi è indispensabile O se è un'aggiunta In più Che però Io posso Sia farne a meno Utilizzando semplicemente La parte frutta e verdura E gli ingredienti Che ci metto io Sia eventualmente Sostituirla Con qualcosa Che posso trovare In commercio O altrove O anche Non so Un sito Come potrebbe essere Insomma Quelli di materie prime Che conosciamo E acquistare Quello che Che poi è Questo composto Questo non l'ho ancora capito Però notavo Questa cosa Che in ogni ricetta Dice mettere Una bustina Di Maschera Di polvere Per la maschera Quindi voglio capire Cos'è questa polvere Per la maschera Comunque Prima di Insomma Guardare queste cose Ho visto Insomma Ho letto Quello che c'era all'interno Quindi Il macchinario In sé Le 50 maschere E le 30 bustine Ho detto Male che vada Se dovesse essere Una cagata Se dovessi comunque Vedere che non è un prodotto Che fa per me O che comunque Non è il massimo E che Insomma Non mi piace Particolarmente Prima di tutto Speso 12 euro Inoltre Ho fatto questo ragionamento Comunque Io ho queste 30 bustine Quindi Perché io pensavo Se poi dopo Non mi sbatto A stargli A sminuzzare Le carote Le verdurine E non ho voglia Di stargli A farle io Perché poi ci sono Comunque in commercio E mi viene più comodo Il mio pensiero è stato Magari butto via I soldi Quando faccio prima Andare a comprarle Vero Potrebbe essere Se siete pigre Magari Non è la cosa Che fa per voi Ma io ho fatto Questo tipo di ragionamento Comunque Male che vada È vero Che sono solo 12 euro Ma ben investiti Perché comunque Io all'interno Ho già 30 maschere Praticamente Cosa? Arrivo Un secondo Io ho già 30 maschere Praticamente Quindi Ho fatto questo ragionamento Una maschera economica Magari non il top del top Però una maschera economica In tessuto Bene o male Un euro E un euro e cinquanta La pagate Quelle economiche Un euro Magari O se sono in offerta 99 centesimi Comunque circa un euro La pagate Vuol dire che io qua dentro Ho già 30 Comunque preparati Per maschera Quindi già 30 maschere Senza sbattermi Troppo Ce l'ho Per cui È come se avessi Tra virgolette Speso 30 euro In realtà E ne ho pagati 12 Quindi diciamo Quei prezzi L'ho già ammortizzato Ed è così Che mi sono convinta L'acquisto E ho detto Ma sì Ascolta Prendiamolo Male che vada Comunque ho queste 30 maschere Me le faccio E via Ciao Cioè Ho speso quello Che ho speso Speso comunque di meno Rispetto a quello Che avrei pagato Se avessi acquistato 30 maschere singole Già fatte Quindi va benissimo Così Leggendo poi Appunto Ho visto che qua Nelle ricette Serve sempre la bustina Quindi Ecco L'unica mia titubanza Adesso è questa Capire Se è una cosa indispensabile Queste bustine Di plastiche Quindi una volta Finite queste 30 Non ne posso più fare Però mi sembra anche strano Perché comunque qua Le maschere Sono invece Come si dice Sono 50 Quindi non avrebbe molto senso Mettermi 30 preparati Pronti E 50 Fogli Per maschere Comunque male che vada Io ho pensato Di sentire L'azienda E tutt'al più Fare questa domanda E chiedere poi Eventualmente Come si può fare Una volta Che questo preparato E' finito Cioè se è buona E' finito l'uso O che cosa Insomma Io credo di no Però insomma Vediamo Magari hanno Previsto anche Di vendere Questi Questi Quattichini Non lo so Non lo so Non ve lo so dire Qua dice comunque 30 cose Da 25 grammi E vediamo Un attimino Vabbè dice Questo prodotto E' per Questo macchinario E' solo per questo macchinario Vabbè Per uso esterno Evitare il contatto Con gli occhi Insomma Ovviamente Dipende Tutto dalle proprie Allergie personali Questo vale Per qualsiasi cosa Allora Ingredienti Talcum powder Benissimo Perché Talco Semplicissimo Talco Quindi Insomma Dovrebbe essere facile Da reperire Corn Strank Non so cosa sia Sodium Alginate Non so cosa sia Diamite Non so cosa sia Calcium Sulfate Non so cosa sia Boh Non lo so Vi devo informare meglio Ragazzi A questo proposito Perché Non lo so Andiamo a vedere Un po' Come sono fatte Ah Semplicemente Così Quindi Non so neanche Che cosa c'è dentro Magari E' sostituibile Con del bicarbonato Appunto Del talco Della mica Della Semplicemente Non so Farina di riso Polvere Di Qualcod'altro Insomma Dovrei Tradurre qua Quello che sono Questi ingredienti E capire Se appunto Qualcosa Di simile Posso trovarlo Vabbè Comunque Questi sono I pacchettini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.